la femminccia come si chiama? abriel 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 vieni vieni tu oh 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 ciao curiosetta brava ragazza bravissima brava 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 oh 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 adrianus ciao adrianus che bello lascialo un attimo senza accarezzare dove va? ahhh insieme a loro eccolo tocca a fare un altro sii mamma come se è bello grosso sì sì alto 65 cm bello ragazzi adrianus no l'ho fatto perché mi ricordo che ho perduto il nome vabbè adrianus amico è il numero 3 ce ne abbiamo di più ce ne abbiamo di più quattro ti piace? in alto che altro mi ricordo che non c'è in alto poi non ci fianco non ci fai nemmeno ci sono L'altro, sì.